Nel 1973, quando si ha l'acquisto da parte della famiglia Cinzano a Coldorcia, era attiva con una gran produzione di tante colture, dal grano al tabacco, dalle olive all'uva, una vera e propria fattoria. Quanto oggi è rimasto di questo tipo di struttura e quali sono le variazioni e i cambiamenti dal 1973 ad oggi qui a Coldorcia? Nel 1973, quando arrivamo, c'era ancora un'economia agricola ereditata dal periodo preguerra e con questo concetto di fattoria agricola. C'era addirittura da segnalare che negli anni Cinquanta, quando i due fratelli Franceschi si suddivisero la collina di Sant'Angelo, valutarono con un prezzo maggiore l'ettaro di olivo rispetto all'ettaro di vigna. Per cui, insomma, la situazione era molto diversa. Adesso c'è un ritorno, abbiamo deciso, con il biologico, con la necessità di ricreare habitat, di avere la biodiversità che ci consente un biologico sano. Abbiamo deciso di riattivare alcuni di questi aspetti. Abbiamo tre famiglie che vivono in tre poderi diversi e stiamo, in una c'è il pollaio, abbiamo degli orti, cerchiamo di piantare alberi da frutta, di ricreare la diversità. Anche nell'ultimo progetto di reimpianto dei vigneti abbiamo anche aggiunto al vigneto stesso la siepe intorno al vigneto, proprio per avere l'habitat per l'indificazione dei insettivori o delle lepri, conigli e così via. Per cui bisogna riscoprire il concetto, come diceva giustamente, della fattoria. Fattoria a tutto campo, con la biodiversità, con l'habitat per tutta la catena alimentare. In un territorio come quello di Montalcino, dove oggi il Brunello, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, la fadda padrone, sembra che la monocultura sia l'unica via possibile. Quanto invece è importante riscoprire appunto la struttura della fattoria e la varietà un po' dal sapore antico, che è in realtà autottono qui a Montalcino? Il riscoprire la fattoria nel senso antico è essenziale, ma ci sono anche comunque le condizioni qua a Montalcino. Ricordiamoci che il 50% del territorio di Montalcino è ancora occupato dalla macchia mediterranea, dal bosco, con tutta la biodiversità che questo comporta. È importante sia dal punto di vista proprio agricolo, come si diceva prima, di creare quelle condizioni di biodiversità che aiutano alla conduzione biologica del territorio, ma sono anche importanti per quello che a mio avviso è il futuro di Montalcino. In poche parole il potenziale di sviluppo di fatturato di Montalcino nel vino con il Brunello si è sviluppato nella maggior parte del suo potenziale. Ci sarà ancora magari della crescita, ma non sarà esponenziale come lo è stato negli ultimi anni. Secondo me l'opportunità è quella del turismo legato a questo vino. E' un turismo che vuole anche l'esperienza gastronomica, vuole i prodotti della fattoria, vuole i prodotti del territorio anche a chilometro zero. Vuole vivere questa diversità che Montalcino è in grado di offrire perché non ha mai perso questa biodiversità, come si diceva, al bosco, ma anche tanti terreni agricoli usati per seminativi, usati, ricordiamoci che poi Montalcino è comune nel miele, comune nell'olio, per cui esiste questa biodiversità, va coltivata e io credo che c'è una possibilità di futuro, di crescita futura nel turismo legato a questo aspetto. Allora, l'importanza della biodiversità abbiamo capito che è essenziale qui a Coldorcia, ma siamo in tempo di vendemmia e quindi una battuta su la vendemmia che sta per concludere qui a Coldorcia e sulle aspettative dell'annata 2015. Il 2015 è una bellissima annata, nella tradizione degli anni che hanno il 5, uva sanissima, non potevamo sperare in condizioni sanitarie migliori e adesso stiamo cominciando a vedere anche in vasca, in fermentazione, dei bellissimi colori, una bella estrazione, per cui una gran bella annata decisamente. Dal punto di vista prettamente tecnico, qual è la varietà di produzione di Coldorcia e ci racconti un po' le caratteristiche della fattoria Coldorcia a questo punto? Negli ultimi anni abbiamo sostituito le varietà moderne di varie essenze che a Coldorcia abbiamo da sempre mantenuto in produzione, come quale grano duro, grano tenero, orzo e avena soprattutto, abbiamo sostituito le varietà più antiche, con l'idea di riscoprire, di riportare al consumatore prodotti sempre più sani, sempre più genuini e anche con qualità organolettiche, salutistiche migliori. Tra queste varietà che abbiamo reintrodotto c'è il grano duro Senatore Cappelli, che ormai da qualche anno già è riscoperto in Toscana e è molto adatto alla produzione di pasta. Stiamo reintroducendo anche altre varietà come il Turanicum, che è un grano duro antico, più antico sicuramente del Senatore Cappelli. Abbiamo in mente di reintrodurre anche grani teneri, quale il Gentil Rosso o l'Autonomia B. Sono tutte varietà che sono state abbandonate per motivi soprattutto agronomici e produttivi e che oggi con il biologico ritornano di grande attualità. Oltre alle viti e agli ulivi che da sempre fanno parte della produzione di col dorcio, ci sono anche altre colture oltre ai grani già raccontati? Sì, per motivi anche di rotazione, tecnici di rotazione, abbiamo inserito anche delle leguminose, quali appunto il cece, il fagiolo, in varietà tipiche delle nostre zone. Si parla di cece piccino, di fagiolo toscanello. E ultimamente ci è venuta proprio l'idea di tornare all'antico, all'antico degli anni Sessanta, quando i nostri fabbricati erano utilizzati come essiccatori del tabacco. ci è venuta in mente di riproporre una cultura ormai a Montalcino dimenticata, che era il tabacco, il tabacco da sigaro. Al momento attuale abbiamo 3.000 metri in prova per quest'anno, stiamo raccogliendo in questi giorni. Il tabacco verrà portato all'essiccazione in un'azienda tabacchicola della zona per poi andare in manifattura per poter fare un sigaro a marchio Coldorcia, si spera. Sarà quindi, come tutto quello che viene coltivato a Coldorcia, un sigaro biologico, un tabacco biologico? Sì, sarà un sigaro biologico dove la certificazione usuale arriva fino alla cultura, quindi sarà un tabacco da agricoltura biologica e dove per la certificazione successiva dovremo ricorrere a un disciplinare privato con una tracciabilità certa e certificata per arrivare ad avere un sigaro a marchio Coldorcia. A proposito di quanto dicevamo prima con il Conte, anche miele a Coldorcia? Sì, da quest'anno abbiamo introdotto 25 famiglie di api. Quest'anno la produzione del miele non è stata di grande quantità, un po' tutto il territorio di Montalcino ha sofferto per la siccità estiva e quindi anche le fioriture sono state ridotte e quindi anche le api hanno lavorato di meno, però in futuro ci sarà un miele Coldorcia. E comunque Coldorcia non si ferma qua, nei prossimi anni continueremo la reintroduzione di vecchie varietà e di vecchie culture, perché è un motivo di Coldorcia quello di ritornare alla vecchia fattoria di un tempo.